La maggioranza praticò ha approvato nel Consiglio Comunale di Ieri il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2014-2016, bocciato dai consiglieri del gruppo Uniti Rilanciamo Praia e da Francesco Marsiglia. In particolar modo si è discusso soprattutto di tre opere, il rifacimento di Piazza della Resistenza, l'ammodernamento del Viale della Libertà e del Santuario Madonna della Grotta. Ma andiamo con ordine. Piazza della Resistenza dovrebbe essere completata a breve, il costo dell'opera si agiva intorno ai 50.000 euro, più contorta la storia del Viale della Libertà. Al momento si sta provvedendo alla sistemazione del primo tratto con la posizione del nuovo materiale. Prima di mettere mano al secondo tratto, l'amministrazione preferisce avere in cassa i fondi assegnati dal Ministero delle Attività Produttive, ossia 1.200.000 euro. Si tratta solo di una misura cautelare, in questi casi la prudenza non è mai troppa, ha spiegato il sindaco Antonio Praticò. Più accesa la discussione sui lavori al Santuario della Madonna della Grotta, per cui è prevista l'installazione di una struttura che elimini lo sgocciolamento dal soffitto roccioso. Su quest'opera si sta alzando un polverone basato sul nulla, ha detto Praticò. Voglio ricordare che siamo seguiti da ben cinque soprintendenti. Il 2 luglio si chiuderà la conferenza dei servizi e solo allora approveremo un progetto condiviso anche dagli organi sovracomunali. Complessivamente però il piano delle opere triennali non è piaciuto a Uniti Vilanciamo Praia. Benvengano i lavori di manutenzione messi in sicurezza degli immobili comunali, ha detto il capogruppo Pietro De Paola, ma non approviamo molti interventi inseriti in questa lista, come l'ampliamento del lungomare Sivimarco e il rifacimento di piazza della Resistenza che secondo noi avrebbe potuto resistere ancora un po'. Un libro dei sogni, ha detto Francesco Marsiglia, che non contiene uno straccio di intenzioni per opere inerenti le energie rinnovabili. L'unica cosa che questo ente ha saputo sfruttare è stato un finanziamento di circa 100.000 euro per pali e lampade a LED, avviato dalla passata amministrazione, poi il nulla. Non si comprende inoltre da dove provengano 1.850.000 euro di fondi a destinazione vincolata, di cui non ho trovato traccia né nel consuntivo né nel previsionale 2014.